Questa lezione ha una genesi particolare. Tutto è ben inizio quando un frequentatore del mio sito, Luciano Piazza, mi ha scritto per condividere alcune difficoltà nell'inserimento e nella visione di particolari formati video all'interno di una pagina HTML5. Io ho risposto dicendo che non faceva nient'altro che confermarmi il livello ancora un pochino immaturo dei vari browser nel supportare in modo variegato questi formati video e suggerivo di fare alcuni test per individuare il formato più adatto per le sue esigenze e di rimanere in qualche modo incollato a quello. Non avevo ancora idea che avevo agganciato uno della vecchia guardia, come il sottoscritto, che tanto ha condiviso per entusiasmo e slancio innovativo nel mondo della scuola. Detto fatto, in pochi giorni il signor Luciano Piazza ha sperimentato alla grande incrociando formati video, browser e sintetizzando i suoi risultati in questa magnifica tabella che avete di fronte in questo istante. Possiamo tranquillamente dire che rappresenta lo stato dell'arte di ciò che oggi i browser offrono. Forse non sarà stato contemplato qualche particolare, ma che diamine. Qua abbiamo un fracco di lavoro risparmiato. A colpo d'occhio basta seguire formato, browser, l'ok, i verdi, oppure le attenzioni e sappiamo che cosa aspettarci dalle nostre pubblicazioni. Come potete vedere i formati testati sono stati i più diffusi. L'MPEG 4, MP4, colonna estensione, formato estensione, il WebM, Lodge V e direi che abbiamo coperto praticamente tutte le possibilità principali. Poiché avevo suggerito di utilizzare e incrociare diverse risoluzioni e diversi frame rate per lo stesso video, di conseguenza sono stati individuati due filmati con queste caratteristiche e soprattutto relativamente, facilmente scaricabili da internet. Il primo è il BigBuckBunny, che potete scaricare anche voi per fare qualche prova. Vedete che non c'è certo penuria di formati, risoluzioni e soprattutto di codec utilizzati. L'indirizzo forse non si vedeva, eccolo qui. Anche se con Google è facilmente recuperabile. Per i video invece in formato WebM è abbastanza semplice, basta cercare con Google qualcosa del tipo WebM Videos Examples e se ne trova una bizzeffe. Comunque su YouTube dovrebbe essere possibile, come spiegato questa pagina, localizzare facilmente video di quel tipo, controllando che nell'indirizzo sia presente questa stringa, che notiamo qua, EndWebM EndHTML5. Qua suggerisce anche che comunque si può provare ad aggiungere manualmente a un link normale la parte con questa coppia di variabili, per vedere se si è in grado di attivare e di chiedere a YouTube la versione in formato WebM. Nella colonna video troviamo probabilmente le informazioni più importanti per riprodurre questi test, e cioè il formato codec di riferimento utilizzato, con i parametri di codifica, il frame al secondo, il profilo di riferimento per il codec, il flusso in termini di bitrate necessario a sostenere il video, la risoluzione e il type utilizzato nella pagina HTML per agganciare il video stesso. Non meno importanti i parametri per l'audio, con il formato, il bitrate, la frequenza e il numero dei canali. Come sono poi stati condotti i test con i vari browser che vedete qui incolonnati? Due modi. Prima aprendo direttamente, colonna dir, i video nel browser, quindi senza passare per nessuna pagina HTML. E poi preparando una paginetta, seguendo le indicazioni delle mie lezioni su YouTube, agganciando quindi, secondo la sintassi HTML5, i video stessi. Come vedete, non sempre i risultati sono coerenti, come uno magari potrebbe aspettarsi, se lo sa aprire direttamente, perché non dovrebbe poterlo fare una volta che si utilizza la sintassi HTML5. Beh, qui avete appunto la controprova, e più di una. La nota WMP OK sta per Windows Media Player OK, supportato, e WLC di Video LAN Player, il famoso player col birillo. Bene, direi che non c'è altro da dire, se non un grosso grazie, e godiamoci questa tabella, che sono sicuro farà risparmiare parecchio tempo a molti di noi. A risentirci.